Ha 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 Meri trovati Pakistà Sì, come si dice che il Vuk è più grande. E che è il Vuk? 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 Ma io pensavo qualcosa di un altro che mi ha detto. E che è il Vuk? 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 E che è il Vuk, che è il Vuk, che è il Vuk, che è il Vuk in Canada ha fatto un pollo di loro. Alla loro pensi di tutto. Alla loro si è l'inforzata quando si è il Vuk? E che è l'inforzata che è stato l'inforzata? E' da qui è il Vuk? E che è la mia mia città di aiuto, e la mia città di Vuk? La Banca è successa, la Banca. E qui si che ci dice? La Banca è successa. Ah, ma cosa si pensi? Cosa ti ha donato il pregno? Diciamo che prendiamo le nostre? Diciamo che prendiamo le nostre? Diciamo che prendiamo le nostre? Diciamo il braccio. Diciamo il braccio. Diciamo il braccio. In il braccio. Ma sono i srbici. Ma cosa si pensi? Ma sono i due stari. Sve siamo passati nel mondo. Veselo ci bello. Mio tu c'era il **, tu. E tu, tu sono. Tutti i tu sei. Ma dove sei i vali. Ma che non vuai il tuo? Io non ho bene il vostro. Vete capito che siamo il braccio e io e due, allora non ho bene il mio braccio. Ma non siete i tutti i tuoi. Non sono i miei insi. Ma non sono i miei miossi 500! Non sono i miei, non sono più i miei, non sono altri miei. Non mi sono più un' parte. Ma non sono i miei passati. Noi inconsistenthi. Convenzione Banska, le due cellule anche. Noi. Kelly, ci devi volentare a te. Cosa? Smeta la libano il pubblico. Son la codice attorney a vovoida oggi, vere no much. Il Smartivano. Maggio. Che cosa è la chiamata? Mario Neg stimolo suo liceo. Come sm� which isulacilo indigno. Ben crude cosa è la stasera? Non mangia ancora la competica. La fondamentale fondamentale! Non ci serve, giustami operandi, пок abandonato uno stesso stico chiamato di col �umbito, un profilo di primo che fa lavoro, c'è pazza, tu ho bellaозionata. Per questo prima non ti diciamo, che metti nemmiscono nulla guarda, in TM. Ma perché sono i membri di nemmun login coba? No, prima di qué andate, allora siamoOUvar state iaccordo. Presiona lì, sapevamo giglio al Vibremoto, Onde tamar malo smo digli glavu, pogledi nasi jogurt, odmai smo se spustili, do 2000-te ništa. Od 2000-te malo dođemo da sebi, ondek dođe Ustavni sud. Pa šta će čoveče više? Od vašeg jahanja nije nam ni dinar više, a ostao jedan jedini. Ko tvojim što kažu, di su naši novci, jel? Koji moji, to nisu moji, što moji, šta su to moji, šta su to moji, šta je to moji? Ne što sam teo da kažem, mislim, da te obveznice, to, o čemu ste pričali ranije, To je mogao da bude dobar posao, odmai da vam kažem, to je bio postica i odličan za razvoj srednjih i manjih preduzeća. To je odlično bilo, jer ako smo mi tada, sa tim obveznicama koji bi imali, da se vezujemo za neku valutu, malo jaču, znači Eurolibar da nam bude, ili vektorski, ako se to prati, to bi moglo do 12,4 na godišnjem nivou da nam dođe. Preko kajmanskih otoka. Ma kajmanskih otoka, nemoj mi, što govoriš otoka, nemoj mi govoriti otoka. Kad je stora urtio da se tako govori, otoka, 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 otoka. Pauza, otoka, otoka, a diš sa ti? Diš sa ti? A diš sa ti? Ide, moram da ide, već je 11. Znaš da me dolje peče, jes me gledao u kupatlu, sunca ti tvoje. A šta ti ne ideš, ti odiš brž da ostaneš danas, jel? Pa, i ovako ne, dojedan mi je, ujedan mi je bazan, hoću tamo na Facebooku dobijem šta imam. Pa što ne odiš ranije? Pauza, čoveče, pauza! Nekaz, bit ću ja još sad sad. Pa to sto posto zove ovi sportivnice. Pa što se ne javite? Pa zato što je neka žena izgleda gore, plače. Jedna žena slabo govori naš jezik, stalno govori, ja sam trudna sam, trudna sam. Znaš, izgleda da je iz Nemačke neka Sabrine. Kako? Sabrine. Sabine? Sabine. Jeste sigurni da je Sabine rek? Sabine. I ono je dole sad. Da, da, gore. Ja ću uzeti slobodno do kraja dana. Vraži? Samo i di slobodno. Ujede, da. Pauza. Koliko puta treba ja da kažem? Halo, baba, jel mi čuješ? Halo, baba, jel mi čuješ? Ma ja sam, ma zovu neke stranke non stop ko da je žalbeno. Ej, slušaj, jedva sam ostao sam. Slušaj, jel mi imamo nešto novce u Razvojnoj banki od dvoje vodine? Koliko? 130 evra. Odma šaljuči ka Žiku, nek to podigne, nek nosi u neku drugu banku. Ima on punomoć. Ma izgleda da je kaputova naša banka. Ma otkud zna ti da nosi, nek traži, reku što se Srbijanska zove ili Beogradska. Ej, baba, ma nek nosi u banku, di je ona žena guverner. Baba!